Si è svolto stamani un incontro a Palazzo Belvù, voluto dall'amministrazione comunale, per affrontare un problema che riguarda la sanità pubblica locale. Un confronto servito per chiedere subito una convocazione urgente della Conferenza dei Sindaci per difendere l'eccellenza del reparto di gastroenterologia dell'ospedale Boria, declassata da struttura complessa semplice con un provvedimento della Giunta regionale. Presenti oltre ai gruppi consigliari di Sanremo al Centro, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sanremo Attiva e Sanremo Insieme, anche l'onorevole pentastellata Leda Volpi e il dottor Massimo Conio, attuale primario di gastroenterologia. Il dottor Conio è alla guida del reparto matuziano dal 2004, che è visto in Europa come una delle poche eccellenze del panorama sanitario della Riviera. Ho passato anni a dire alla Regione, riferisce Massimo Conio, che bisogna battere le liste d'attesa. Sono stato letteralmente inascoltato, non ho mai ricevuto nemmeno una risposta da parte dell'Asle della Regione. Se si toglie la possibilità di trattare l'emergenza a Sanremo, si rendono conto che i politici di cosa vuol dire trasferire un caso complicato fino a Pietraligure? Ci saranno motivazioni politiche dietro alla scelta dell'assessore regionale Sogna Viale? A domandarselo è stato il capogruppo della maggioranza del sindaco Biancheri, Alessandro Sindoni. Abbiamo già perso come città altri reparti d'eccellenza. La vedo come una ritorsione politica da parte della Regione. Valuteremo di ricorrere al TAR contro la delibera della Giunta Totti. Inoltre, dicono, si continua nel disegno di indebolire Sanremo e portare avanti la privatizzazione della sanità pubblica. All'interrogazione urgente presentata al Ministro Giulia Grillo da parte dell'On. Volpi, è stata decisa oggi di inoltrare all'attenzione dell'assessore regionale Viale e al Direttore dell'Asle 1 Imperiese da Monte Prioli una richiesta di convocazione urgente. Grazie a tutti.